Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato il calendario dei colloqui per il Servizio Civile Universale che saranno realizzati con modalità online, attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom, con l'invio del link nella casella di posta elettronica associata dal candidato alla propria identità digitale Speed. La lista dei candidati è divisa in ordine alfabetico, dalla C primo cognome alla V ultima lettera. La selezione inizierà il prossimo 24 marzo. Quest'ultima averterà sui progetti giro-girotondo e informazione a portata di mano. Per quanto riguarda la prima selezione del progetto giro-girotondo, i posti disponibili sono quattro di cui uno riservato ai giovani con minore opportunità, mentre la seconda informazione a portata di mano prevede 12 posti disponibili di cui due per i giovani con minore opportunità. Secondo quanto descritto dal bando scaduto lo scorso 10 febbraio, i progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, diviso su 5 o 6 giorni a settimana. I volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto di 444,30 euro che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT.